I ragazzi della nebbia, della nebbia immagino perché magari attorno a loro c'è una fumera tale che non si vedono bene, perché comunque non è che questi testi sono così chiari, ma più che di chiarezza parlerei c'è proprio un no sense generale che è parte integrante dello stile del loop. Vabbè, comunque diciamo che la strumentale è pazzesca, mettiamola così, così ci togliamo via il dente, via il dolore. E adesso iniziamo a dire ciò che andrebbe detto. Allora, siamo nell'epoca dei produttori, ai tempi il produttore era il direttore artistico del progetto, quello che finanziava, oggi il produttore invece è quello che produce la strumentale. E che non ha più bisogno di finanziare perché ha lo studio, produce il beat, chiama gli artisti, registra e pubblica. A costo zero praticamente. Quindi oggi è l'epoca in cui il produttore si rilancia. Ovviamente non è questo il caso perché questi sono comunque... Cioè è anche il caso, però comunque c'è tutta la major dietro, quindi comunque c'è un mondo dietro. Però, ecco, questa è l'epoca in cui comunque a un certo punto il produttore smette di stare dietro le quinte e diventa protagonista creando questi mixtape o questi singoli chiamando vari artisti che però non hanno magari anche nulla a che fare. Lo si fa solo per contatti, conoscenze e un maggiore aumento di numeri, come in questo caso. È un ibrido. Cosa c'entra iRama con FSK? Niente, sostanzialmente. Però queste sono cose molto particolari perché vanno un po' a discapito di qualcuno. Ad esempio FSK, il feat con iRama, non gli cambia niente. Però iRama, che ha una fanbase popolare da tormentone estivo, non credo che la sua fanbase apprezzi una roba così, ma non il feat con l'FSK. Proprio questa canzone, tolto il beat, è uno stile che non c'entra un cazzo con iRama. Però, cioè, non lo so, gli ammazzano l'immaginario, capito? C'è una volta, c'era l'immaginario, oggi non c'è più. Oggi non si sa chi sei, chi non sei, puoi collaborare con chiunque, puoi far parte di qualunque cosa. Ma anche FSK, cioè comunque, se tu sei la tua nicchia, poi mi collabori con iRama, ti cambia un po'. Però vabbè, sono discorsi per ragazzini. Taxi B da pasta e pazza dice sempre le stesse cose. Io credo che gli FSK hanno un po' stufato con questo stile. Tanto si capisce, si capisce niente di quello che dicono. Concettualmente non c'è nulla da dire. Ci sono delle parti musicali che magari ti entrano. Questa è musica da ascoltare in cassa. Se sei fan, se capisci il genere, magari te la pure sguazzi. C'è, intravedo diciamo, quegli aspetti di stile che piacciono ai ragazzi e che li rendono fruibili alla loro nicchia di mercato. Però ecco, il fenomeno FSK quando è iniziato, c'erano un mix di fattori, il video, l'attitudine. C'era un mix di roba che li ha resi unici originali. Gli ha resi, nonostante magari non piacessero, fossero criticabili e tutto. C'era quel mix anche di non sapere, questo qui che ti rappa come se si fosse fatto una pera, quest'altro che ti urla. C'è, desta curiosità all'inizio. Il problema è che adesso siamo distanti dall'inizio. Adesso siamo in una fase in cui stanno iniziando a stufare, secondo me. Poi magari mi sbaglio, non lo so. Non mi pare che il disco che abbiano fatto abbia avuto tutto questo successo, ecco. Tra l'altro, cioè, se non ero c'è un bacio stampato sulla guancia. Cioè, ho visto una foto, magari mi sbaglio. Ma, quando uno fa queste cose, io non so quanti tatuaggi in faccia. Non ho tatuaggi, ma se dovessi farmi un tatuaggio me lo farei proprio in faccia. Perché mi piacciono, da quando ero piccolo che mi piacciono i tatuaggi in faccia. Non me lo so mai fatto perché ovviamente non mi sembra il caso di compromettere il mio faccino. E perché a un certo punto, fino a che erai dieci anni fa una cosa, oggi ce l'hanno tutti. Cioè, oggi è proprio da poser, dieci anni fa era un'altra cosa. Dieci anni fa me lo sarei fatto. Non l'ho fatto perché ero piccolo. Ma oggi non me lo farei perché appunto tatuaggi in faccia vuol dire sei un coglione. Non per gli altri, per me vuol dire questo. Per gli altri io mi fai un cazzo. Comunque, prima o poi ti svegli, fai i conti con la realtà. Questo è il discorso. Cioè, un conto, come era una volta. Io mi sono fatto cinque anni di galera. Oppure ho perso un fratello, un amico caro. E per il lutto io mi faccio una lacrima in faccia perché la sento dentro. C'erano delle regole, non è che ti potevi fare una lacrima in faccia così. Ok? C'era un motivo per cui io si faceva un tatuaggio. E ci sta che oggi i tatuaggi si fanno solo per stile. La voglia ci sta, ok. Però, un bacio sulla guancia, ok. Cioè, nel senso, a parte il bacio sulla guancia, in generale. Prima o poi fai conti con la realtà. Ti rendi conto che sei solo. Che non puoi fare tutto quello che fai per gli altri. Perché questa gente fa così. Questo ha bisogno di ostentare. Cioè, è un racconto di una grande solitudine interiore. Al di là, uno dice, ok, tu sei invidioso, è successo. Non si parla di me o di chi parla. Qui si parla proprio di stare da soli. Cioè, è dura stare da soli. E appunto, a un certo punto, quando tutto ciò che fai è in relazione ad apparire, a far vedere. E a dover far vedere che sei il più matto. Che sei quello che sta più fuori. E tutto quello che ti pare. A un certo punto la situazione cambia. È brutto. Fa brutto veramente. Quando poi ti accorgi che sei da solo. Fai che c'è vent'anni, ventuno, ventidue, ventitré, venticinque inizia a essere qualcosa. Ventisei, trenta, quaranta. Ti guardi allo specchio. Esci dal personaggio due minuti. Perché questi se escono dal personaggio un minuto, stanno a pezzi. Esci dal personaggio cinque secondi. Ti guardi allo specchio e dici, ma che cazzo c'ho? Cazzo ho fatto? E poi là è il problema. E non lo dico per cattiveria. Perché io ci godo. Non ci godo affatto. Se un giovane ragazzo si guarda allo specchio e dice, che cazzo ho fatto? E' semplicemente per dire che io non riesco a capire. Non riesco a capire. Sono fuori. E' proprio incoscienza. Che un conto è essere fuori di testa. Un conto è essere incoscienti. E stupidi. E io nei comportamenti di questi ragazzi vedo tanta stupidità. Musicalmente ci sono tante cose interessanti. Da un punto di vista proprio musicale. Ma grazie soprattutto ai produttori. Anche se, per me, questi ragazzi hanno iniziato a stufare. E questi sono i primi passi verso... Non dico il deglino. Perché comunque c'hai una fanbase vasta. Un sacco di click. Un sacco di potere mediatico. Non finisci mai completamente. Pure la Dark Polo teoricamente sono finiti. Poi ogni volta che fanno il disco, anche se magari fa schifo, comunque... È bello seguito. Ci guadagnano. Ci vivono. Hanno comunque creato un trend. Però loro hanno smesso gli FSK di essere interessanti. Come è stato magari all'inizio. E questa è... È una cosa che accusi dentro. La sai. Anche se non l'ammetti. E queste canzoni sono testimonianza di questo, ecco. Proprio così. E mi dispiace perché hanno iniziato bene, pur iniziando malissimo. Boh, spero che si rinnovino. Perché così, secondo me, non andranno lontano.